Arriva il sostegno alle aziende del territorio campano in difficoltà nel pagamento delle bollette dell'energia. La regione Campania eroga un fondo da 58 milioni di euro che sarà possibile implementare fino a 100 in caso di necessità a sostegno delle aziende in difficoltà nel pagamento delle bollette dell'energia elettrica. La misura è stata annunciata negli scorsi giorni dal governatore Vincenzo De Luca e la delibera della giunta di Palazzo Santa Lucia ne ufficializza lo stanziamento. I sussidi sono stati programmati utilizzando i capitoli presenti sul piano operativo complementare 2014-2020 e potranno essere rimodulati con il buon esito delle procedure di modifica delle destinazioni dei soldi previsti con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Campania 2014-2020. Alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive il compito di definire le misure d'aiuto e allo stesso tempo programmare gli avvisi pubblici per concedere i sussidi gli uffici di Palazzo Santa Lucia si sono attivati anche per aiutare le aziende a varare delle politiche e degli altri interventi per abbattere i costi dell'energia elettrica. Sono stati programmati altri 5 milioni di euro a valere sui rientri del Fondo Piccola Media Impresa Campania 2007-2013. Anche in questo caso disponibilità che potrebbero essere ampliati di altri 45 milioni dopo la verifica sul possibile spostamento dei capitoli previsti nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Campania 2021-2027. Con tali fondi sarà possibile avviare delle operazioni da parte delle aziende propedeudiche all'efficientamento energetico come l'installazione di pannelli fotovoltaici e altri impianti in grado di produrre energia elettrica.